La rassegna stampa è offerta da Pama Arredamenti, zona industriale, località Sant'Antuono, Polla, Salerno. Buongiorno e bentornati con l'appuntamento mattutino con la nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie per i quotidiani in Edicola questa mattina, giovedì 16 novembre. Andiamo sulla prima pagina del mattino nazionale, vediamo quali sono i titoli con cui apre oggi il mattino. In apertura la guerra in Medio Oriente, ancora in primo piano, Staggi, Tregua, Lo Spiraglio, liberare 50 prigionieri in cambio di una pausa dagli attacchi a Gaza di 5 giorni. Israele frena, le truppe di Tel Aviv entrano nell'ospedale al Shifa, qui il comando di Hamas, trovate le armi. E poi a centropagina invece si parla dell'incontro atteso tra il presidente degli Stati Uniti d'America Biden e il presidente cinese Xi Jinping. Vediamo l'incontro del disgelo tra Biden e Xi, gli USA alla Cina, lavoriamo insieme su clima e intelligenza artificiale. Ancora in alto, cambiamo argomento, gli scioperi, il caso, le barricate dei medici, stop al lavoro per tre giorni. Dimezzato lo sciopero trasporti, domani treni, bus e navi si fermeranno solo per quattro ore, ossia dalle 9 alle 13. Si triplicano gli scioperi invece dei medici contro la manovra e il taglio pensioni. Il 17 novembre, il 5 e il 18 dicembre, stop per migliaia di camici bianchi. Andiamo poi di fondo la riflessione, torniamo sulla guerra in Medio Oriente, l'identificazione con le vittime e i reali obiettivi degli sciadisti. Andiamo a centro pagina, Nisida, notte di follia, cella incendiata e botte agli agenti. Paura del carcere minorile, fuoco appiccato da due minori magrebini, allarme dei sindacati. Polveriera Nisida, è stata una notte d'inferno, quella tra martedì e mercoledì, all'interno della struttura penitenziaria dedicata ai minori. A scatenare il pandemonio sono bastati due giovanissimi reclusi marocchini che prima hanno appiccato il fuoco alla cella che li ospitava e poi aggredito con inaudita brutalità alcuni agenti della polizia penitenziaria. Caos e paura nei reparti invasi da un fumo acre. E poi il commento, com'è lontana l'immagine creata dalla fiction. Andiamo nella fotonotizia, l'iniziativa in Regione Campania, una giornata del ragù per legge. In basso invece il primo giorno di allenatore di Mazzarri per il suo Napoli. Vediamo Mazzarri che adrenalina ma la partenza è senza big. L'arrivo a Castelvolturno con De Laurentiis. Il personaggio, sempre per quanto riguarda invece lo sport, ma andiamo sul tennis, Magico Sinner, il tennis italiano torna a sognare. Questa è la prima pagina del mattino nazionale. Vediamo invece i titoli per la prima pagina del mattino di Salerno. In apertura, luci, ecco il piano sicurezza. L'evento di Natale, summit dal prefetto esposito che apre al Capodanno in piazza Libertà. Valuteremo le proposte. Quest'anno niente navette ma più corse della metro. Rinforzi di polizia anche da fuori. Ancora sempre a Salerno si parla del Nuovo Ruggi. Siamo di fondo. L'opera pubblica Nuovo Ruggi, sprint di De Luca, patto con l'ANAC per la gara. E poi l'inchiesta, tamponi covid e archiviazione, limone ferito senza motivo. Andiamo in alto di spalla. La scuola prof, soltanto 335 assunzioni nel salernitano, sarà a fuga. Nuovi concorsi nella scuola, non c'è l'ondata di assunzioni che in tanti speravano. In palio tra Salerno e provincia, appena 335 posti per i vari ordini di scuola. E poi ancora asfalto sul cantiere del corso, ma che brutta passeggiata. Commercianti e opposizioni criticano la colata di bitume. Qui la fotonotizia, quindi la colata di bitume per poter chiudere i cantieri in occasione degli eventi natalizi e quindi di luci d'artista. E per poter chiudere i cantieri, quindi si è pensato a questa toppa sull'asfalto. Andiamo di spalla, ancora sempre a centropagina. La Cherelli, il conservatorio dice no al bando per l'auditorium. Comune è pronto a dare la struttura in concessione Provenza, così noi non potremmo partecipare. Meglio l'affidamento gratuito. E poi l'incompiuta. Più Europa, lavori bloccati. Nelle fotonotizie in basso, Scafati, corsa verso l'ospedale Sessantenne, arriva senza vita. Un'altra tragedia a Scafati e poi la salernitana si ferma. Anche c'è un A, serve un partner per D.A. Questa invece è la prima pagina del mattino di Salerno. Vediamo quali sono le principali notizie per il quotidiano Le Cronache. Andiamo in apertura nelle fotonotizie sotto il titolo di testata. La salernitana è in primo piano con la lettera del patrone Iervolino. Vediamo, Iervolino non incontra il centro di coordinamento. Rilancia, siamo quelli del 7%. Poi siamo a Salerno. Anche qui troviamo la notizia delle polemiche per quanto riguarda la situazione del centro. Ha asfaltato il corso da re. Un orrore, uno schifo. Chi ha permesso tutto questo? Questo è l'interrogativo da cui si parte con la polemica. Andiamo avanti a centro pagina. L'intervento dal bilancio squilibrato ai privilegi della Fondazione Mene. I tecnici e assessori non lasceranno tracce. E poi il rimpasto dell'aggiunta per non cambiare nulla. Le altre notizie in basso. San Marzano, Zuottolo all'attacco, Oliva, Calabrese e Alfano, traditori. Salerno, Antonio Baglivo, una mostra a Palazzo Fruscione a San Severino, ritrovato morto dopo la scomparsa, Matteo Fiorillo. Per quanto riguarda ancora le notizie di spalla, andiamo in alto il fatto pronto soccorso Ruggi. De Luca non risponde alla domanda e se ne va. E poi ancora Salerno, Lucida Artista e il Comune dice no alle navette più corse della metro. Cambio di strategia. Ancora Salerno, l'edicolante di Vianizza, Massimo Romano, il web penalizza i giornalai, cioè decremento delle vendite. E lasciamo la pagina del quotidiano Lecrona che termina qui, quella prima parte della nostra rassegna stampa. Torneremo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Vediamo le notizie per il territorio salernitano. Andiamo sulle pagine di primo piano del mattino di Salerno. In particolare, il mattino si concentra sull'evento natalizio. Lucida Artista, pochi giorni ancora, e partirà la Kermess a Salerno. Vediamo, luci, il piano di sicurezza. Non c'è il servizio navette, ma più corse della metro. Quindi ci si concentra già nella predisposizione del piano di sicurezza in vista dell'inizio proprio della rassegna natalizia. Summit in prefettura per la Kermess, rinforzi di polizia anche da fuori Salerno. Villa comunale, addio ai limiti di accesso. Rotonda, percorsi di ingresso e di uscita. Il prefetto Esposito apre la possibilità del Capodanno in Piazza Libertà. Valuteremo cosa proporrà il comune. Andiamo in basso. La polemica. Corso, asfalto sul cantiere, ma in tanti stoccono il naso. Snaturata la passeggiata. I commercianti brutto e sporco. Pecoraro dei Cinque Stelle denota l'incompetenza dell'amministrazione. Critico anche il PSI. Lasciamo questa pagina, andiamo avanti ancora sul mattino di Salerno e vediamo per il tema, i nodi dell'istruzione, lo abbiamo visto anche dalla prima pagina, il numero esiguo di cattedre a disposizione nel Salernitano. Vediamo, prof, solo 335 posti in palio nelle scuole salernitane. Pochi sarà fuga al nord. Bandi entro novembre. Non c'è l'ondata di assunzioni in cui i precari speravano. I sindacati avremo ancora una volta cattedre prive di insegnanti di ruolo. maggiori disponibilità negli istituti del settentrione con percentuali molto elevate per il sostegno. Nuovi concorsi nella scuola. Non c'è l'ondata di assunzioni che in tanti speravano. In palio tra Salerno e provincia, appena 335 posti per i vari ordini di scuola. C'era da abbattere un precariato da record. Mai il via ai nuovi concorsi finanziati dal piano di ripresa e resilienza finirà per accontentare in pochi. Vediamo ancora. Ieri il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha illustrato ai sindacati i bandi che saranno pubblicati entro fine novembre. Sia per il concorso straordinario TER per le scuole medie e superiori, sia per la scuola dell'infanzia e primaria. In Campania sono in palio 1.415 cattedre suddivise nei vari ordini di istruzione. Nel Salernitano sono in palio appena 335 posti. E andiamo avanti. Ancora sempre su questa pagina ci spostiamo in basso. Vediamo i controlli in assi in otto mense scolastiche. 5 sono non conformi, sono 8 le mense scolastiche controllate dai carabinieri dei NAS in provincia di Salerno. E al termine delle ispezioni 5 sono risultate non conformi, lieve le criticità riscontrate, quindi igienico-sanitarie e strutturali, ma comunque da sanare come imposto attraverso una diffida al termine dei controlli. Vediamo la mappa dei controlli, i controlli dei carabinieri del NAS di Salerno. Hanno riguardato non solo la provincia di Salerno, ma anche le province di Avellino e Benevento. Lievi irregolarità igienico-strutturali che vanno sanate. Il numero di criticità riscontrate è più alto della media nazionale. E lasciamo anche questa pagina. Andiamo avanti, ancora sul mattino di Salerno. Ci spostiamo sulla pagina della Piana del Sele, dei Picentini, del Cilento e del Vallo di Diano. In apertura siamo a Battipaglia, più Europa, lavori fermi, assemblea e protesta. Incompiuta da 5 anni, cittadini e sindacati scendono in strada e chiedono risposte. Doveva essere un'opera funzionale per tutta la provincia sud. Sempre a Battipaglia, in auto con coca e fumo, preso un pusher, operazione antidroga a Battipaglia. I carabinieri hanno arrestato Giuseppe De Palma per detenzione di stupefacenti, finalizzata alla vendita. Ed hanno sequestrato 53 grammi di cocaina, oltre un chilo di hashish, esattamente 1164 grammi. A Eboli, invece, siamo a centropagina, case popolari nel degrado, l'allarme dei residenti. Mentre in basso andiamo ad Agropoli, comune, Mutalipassi predica la calma e Pesce spera nel giudizio di merito. La sospensione della sentenza del TAR è stata confermata dal Consiglio di Stato. Una decisione che non ci sorprende, vista la prassi in materia, resto fiducioso sull'esito del giudizio di merito. Così ha commentato la decisione dei giudici di Palazzo Spada Raffaele Pesce, consigliere comunale del gruppo Liberi e Forti. L'udienza pubblica in cui verrà presa la decisione definitiva è fissata per il 19 dicembre. Andiamo a Roscigno, circondati dalle frane, paese da sgombrare. Ennesima frane, il comune di Roscigno può dirsi circondato dagli smottamenti, tanto che il sindaco Pino Palmieri minaccia lo sgombero del paese se la situazione dovesse aggravarsi. E andiamo avanti ancora su questa pagina. Scusate, ci spostiamo di spalla, siamo a Montano Antiglia. Inclusività dei luoghi pubblici, la battaglia. Cristian Durso continua la sua battaglia per rendere territorio occidentano più accessibile. Il ragazzo con disabilità ha scritto a poste italiane per denunciare carenze che si registrano nell'ufficio postale di Montano Antiglia. A Montecori c'è invece restyling dell'ex mulino di Giungatelle, c'è il piano. E lasciamo anche questa pagina del mattino di Salerno, ma restiamo sempre sul mattino di Salerno per parlare ora di calcio. Quindi vediamo quali sono le notizie che provengono dalla Salernitana. Lo abbiamo visto dalla prima pagina, purtroppo l'ennesimo infortunio, un infortunio pesante per la Salernitana. Vediamo infatti il titolo. Salernitana si è fermato, c'è una fastidio al polpaccio per il francese, in dubbio contro la Lazio. Cabral prosegue nelle terapie e potrebbe farcela con la Fiorentina. La gente dica Andreva, credo sia impossibile pensare a salvarsi senza Antonio, ma nulla è escluso nel mercato a gennaio. E lasciamo anche questa pagina. Andiamo ora invece a vedere quali sono alcune delle notizie pubblicate sul quotidiano, le cronache. In particolare, in primo piano, si parla del corso di Salerno, dove sono stati eliminati i cantieri in vista dell'inizio della Kermess di Lucidartista, ma il cantiere è stato rattoppato con dell'asfalto. Una decisione che fa storcere il naso a molti, tant'è che è partita una polemica proprio su questa decisione. Vediamo qui l'immagine di Corso Vittorio e Emanuele a Salerno. Ancora il titolo. Via il cantiere, l'orrore di ricoprire il tutto con l'asfalto. A criticare la scelta il coordinatore cittadino del PSI, il salotto buono immaginato da Giordano, non era così. Insorgono anche i pentastellati, terribile la colata di asfalto sul corso di Salerno. E Santoro, un nuovo monumento alla demenzialità politica. Questo quindi il commento di Santoro. Da un lato il presidente della regione, che continua ad impartire ordini all'amministrazione comunale. Dall'altro un sindaco incapace di portare avanti le sue stesse disposizioni a ribellarsi al volere dell'eterno primo cittadino. Così la toppa è peggio del buco. Nei giorni scorsi, infatti, sul corso Vittorio e Emanuele è stato rimosso il cantiere. La ditta ha provveduto a ripristinare la situazione in attesa della ripresa dei lavori in programma a fine gennaio. E il risultato è qualcosa di veramente brutto. L'asfalto nero che ricopre il salotto buono della città lascia molto a desiderare e a ribellarsi e puntare il dito è proprio la maggioranza. Andiamo in basso. Il fatto controlli nelle mense scolastiche dei carabinieri dei Nassa a Salerno. Scattano i sequestri. In particolare sono state controllate 16 mense scolastiche di cui 7 risultate non conformi sull'igiene. Lasciamo questa pagina. Andiamo avanti ancora sulle cronache. Siamo ora nell'area più a sud della provincia di Salerno. Vediamo. Per quanto riguarda l'ambiente paterno, riqualificato con Verde e Pulizia, manifestazione nel Rione il 26 novembre voluta dal Comitato di Quartiere Comune e Lega Ambiente ed alcune associazioni. Per la cultura, la scuola di lettura in biblioteca questa mattina, primo appuntamento, iniziativa tra Comune e Caffè Orchidea. A centro pagina, iniziativa nella sala concerto San Lorenzo, il ricordo di Umberto Nobili, organizzazione del Rotary Eboli, per presentare il libro di ventre sulla grande impresa. E restiamo ancora sul Eboli. Vediamo appuntamento, violenza, discuterne per combatterla e denunciare. Sabato un confronto con educatori ed esperti all'auditorium del liceo Pedito Levi di Eboli. Per quanto riguarda vertenza lavoro, Conte vicini ai lavoratori, Prismian Foss. L'avvertenza Prismian Foss registra anche un intervento del sindaco di Eboli, Mario Conte. Confidiamo nell'intervento del governo affinché possa assumere ogni iniziativa utile a salvaguardare i posti di lavoro che riguardano l'intero territorio della Piana del Sele, compreso il comune di Eboli. E lasciamo questa pagina ancora sulle pagine della provincia di Salerno. Siamo ora invece a Battipaglia. Vediamo. Dal primo dicembre torna il treno Frecciarossa in partenza per Torino. Diversi esponenti politici hanno lavorato per far sì che il servizio tornasse attivo dopo circa due mesi di pausa. La prima cittadina parla di impegno mantenuto dopo che oltre un mese fa c'è stato un vertice con rete ferroviarie italiane. E poi ancora Lega e 5 Stelle festeggiano il risultato. Esulta anche la sindaca Cecilia Francese proprio per quanto riguarda il ritorno del treno Frecciarossa con Sosta Battipaglia. Andiamo in basso. Gli operai hanno incontrato il ministro Durso. Parliamo della protesta per Fos Prismian e i lavoratori ricevuti al Ministero a Roma. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato il palcoscenico di un incontro intenso tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti governativi sulla questione Fos Prismian di Battipaglia. Mentre i lavoratori presidiavano all'esterno manifestando le loro preoccupazioni per il futuro incerto il segretario nazionale dell'UGL chimice Liseo Fiorin ha condiviso esiti positivi e prospettive concrete al fine del tavolo di confronto. E chiudiamo questa pagina. Termina qui la nostra rassegna stampa. Io vi ricordo l'appuntamento con il nostro TG alle ore 13.45. Grazie per averci seguito e auguro a tutti una buona giornata. Grazie a tutti.